Qualunque cosa cerchi, la trovi da Kik. La catena di negozi per te e la tua casa. Barbecue Landman da 20 euro. T-shirt di Minnie Mouse da 7,99 euro. Lampadi da giardino a partire da 1,49 euro. Kik, più di quanto ti aspetti. Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Questa frase di Ipocrate è perfetta per introdurre l'ospite di oggi, che non solo è un'innovatrice nella diffusione di consapevolezza a proposito dei disturbi alimentari, ma le sue idee rappresentano a pieno l'attitudine della Gen Z a trovare soluzioni geniali da pionieri. Grazie a Camilla Mondini di essere qui a Gen Z allo specchio, Camilla ha fondato Dici Alice, una piattaforma che è uno spazio sicuro in cui poter affrontare e curare i disturbi dell'alimentazione, entrando in contatto con professionisti come medici, psichiatri e nutrizionisti. Ha creato qualcosa che non esisteva, ma di cui c'era veramente un grande bisogno. Quindi ringrazio personalmente Camilla Mondini per questa meravigliosa idea e per essere fondatrice di questo progetto. Ma chi è Camilla Mondini? Ciao Giulia, intanto grazie mille per la possibilità e mi fa molto piacere che anche in una piattaforma come questa si parli di disturbi del comportamento alimentare perché penso che sia fondamentale dare sempre più voce a un problema che effettivamente nonostante sia molto frequente ancora viene sottovalutato e molto stigmatizzato. Io mi sono ammalata di disturbi alimentari durante il liceo e diciamo anche i primi due anni di università. Ho sofferto di anoressia e bulimia nervosa per quattro anni e mi sono resa conto di quanto un disturbo alimentare può effettivamente fermare la tua vita, nel senso che io non avevo più amici, non riuscivo a studiare, non riuscivo a portare avanti le giornate come le altre persone che io reputavo normali facevano e poi pensavo di essere sola nel mondo, di essere l'unica che soffriva di questi disturbi. E quindi quando sono diciamo guarita, ho affrontato un percorso di guarigione, ho sentito la necessità di stare vicino a chi come me affrontava un momento del genere. Quindi da qui è nata l'idea di Cialice. Io nella vita ho studiato medicina, ho fatto tre anni di medicina a Roma e poi mi sono trasferita a psicologia. Sicuramente medicina era un mio grande sogno ma è stato un periodo brutto anche dovuto appunto ai disturbi alimentari, quindi ho deciso di cambiare rotta e momentaneamente sto finendo psicologia sempre alla sapienza di Roma. E ho deciso di fondare Cialice circa un anno e mezzo fa, mentre ero a Londra a fare un corso di giornalismo alla London School of Economics ed è stato insomma un gioco all'inizio. Ho detto proviamo con Valentina che è una mia amica da vent'anni, fa la grafica, si sta lavorando in grafica. Abbiamo fatto un post su Instagram, poi è partita l'idea dell'equip e in un mese improvvisamente è esploso tutto. Wow, sentirti parlare così della tua esperienza secondo me può essere veramente d'aiuto e è d'aiuto a tante persone che appunto come dici tu affrontando questa malattia spesso si sentono sole e credo che il tuo progetto sia meraviglioso. Capisco che sia nata appunto da un'esigenza personale, ma ci vuoi parlare bene di che cos'è Cialice, come funziona, in che modo magari fa sentire delle persone con uno stesso problema parte di una comunità? Sì, con Cialice ci occupiamo sia di sensibilizzazione che di divulgazione, ma abbiamo anche un'equipo multidisciplinare composta appunto da psichiatri, psicologi e nutrizionisti. Quello che facciamo principalmente sui social, ma non solo, perché l'anno scorso siamo stati invitati anche in numerose università e licei. Con la consulta provinciale di Roma abbiamo parlato a quasi 10.000 studenti, quindi è stato un momento molto bello. Che facciamo è spiegare che cosa significhi avere un disturbo alimentare, perché sì, la letteratura scientifica è importante, spiegare ovviamente anche dal punto di vista tecnico che cosa sia un disturbo alimentare è fondamentale, ma fai fatica ad arrivare alle persone, perché spesso chi soffre di disturbi alimentari viene visto come la malattia e non come una persona. Tanto è vero che la frase quella è anoressica o se è anoressica è frequentissima, ma è molto sbagliato ed è anche molto diverso dire soffri di anoressia e non sei anoressica, perché dire sei sembra che tu sia la tua malattia e invece non è così e licei nasce proprio per questo, per staccare la persona dalla malattia. E quindi quello che cerchiamo di fare è spiegare che cosa vive una persona ogni giorno quando soffre di disturbi alimentari, in modo tale che chi la circonda, che siano i familiari, gli amici, un compagno, i compagni di scuola, di università, capiscano effettivamente anche come comportarsi con una persona che ne soffre e di trattarla come una persona normale, perché alla fine lo è, anche se è malata. Io credo che la nostra generazione in questo momento abbia veramente tanto bisogno di questo, perché quando ero più piccola, io che magari ero alle medie o inizio liceo, non c'era ancora internet a parlare tanto di questo problema, comunque era una sorta di velo strano questo dei disturbi alimentari, non c'era tanta chiarezza. E infatti ti voglio chiedere, secondo te, la nostra generazione, la tua giovane età, quanto può aiutare, grazie ai social, grazie a internet, a comprendere e a dare anche una sorta di rispetto, se posso permettermi di usare questo termine, a queste malattie? Sì, sicuramente contribuisce molto. Poi i giovani al giorno d'oggi, a partire da me stessa, che insomma ci lavoro, sono spessissimo sui social, anzi quasi sempre, quindi anche avere pagine e aiuti, anche ad aiutare a saper discernere tra le pagine che fanno informazione corretta e quelle che magari non la fanno, è molto importante, perché certamente si arriva ad un pubblico molto ampio. Detto questo, secondo me sarebbe anche importante cercare di arrivare oltre alle persone che magari si sono già accorte di avere un rapporto conflittuale con il cibo e quindi sono loro magari a cercare una pagina di questo tipo. Perché io mi ricordo quando non soffrivo di disturbi alimentari, sapevo che, insomma, esistevano, ma non ne sapevo niente sul tema e quindi io non seguivo nessuna pagina e mi ricordo che la prima volta che ebbe una buffata cercai su internet, ma cosa significa se fai così, così e così. E mi sono resa conto in quel momento, mi sono fatto un'autodiagnosi, ovviamente non si fa su internet, ma non sapevo cosa mi stava succedendo. E quindi io vorrei riuscire a, insomma, captare anche quelle persone che non sanno o non sono consapevoli, perché secondo me in questi casi in cui si tratta appunto di malattie che sono sempre molto stigmatizzate, molto nascoste, l'educazione è fondamentale. Sono totalmente d'accordo. Per parlare un attimo di te e del tuo progetto, dice Alice, perché tu sei la CEO di questo progetto e sei entrata anche negli under 30 di Forbes, credi che si dia abbastanza spazio alle idee dei giovani oppure ci sia ancora un po' di diffidenza da questo punto di vista? Allora, credo che la situazione sia molto migliorata e, insomma, ad oggi ci sono molte piattaforme, molti spazi e molte persone che danno effettivamente spazi ai giovani. Io non mi aspettavo di finire su Forbes, pensavo che, insomma, il mio progetto non fosse ancora grande abbastanza, abbastanza degno di nota e quindi atto proprio per gioco, tant'è che non mi ero neanche accorta di essere finita sulla classifica, me l'hanno dovuto dire. Ho avuto tipo uno shock quando l'ho visto perché non me l'aspettavo e quindi sì, sicuramente si iniziano a vedere i giovani. Detto questo, penso anche che per un giovane in Italia oggi sia ancora troppo complicato fare impresa, nel senso che comunque il panorama non è dei migliori e quindi penso che i giovani siano molto intimoriti dal magari provare a buttarsi, fare dei risalti nel vuoto perché effettivamente è difficile e complesso, i costi sono tanti, le difficoltà sono molte e ci si scontra anche magari con persone molto adulte che ancora pensano che i giovani debbano studiare e fare gavetta prima di poter dire la loro, ecco. Sono d'accordo. Oltretutto la mia prossima domanda sarebbe stata proprio questa e mi è venuta da sorridere quando hai detto io neanche me ne ero accorta, me l'hanno dovuto dire che ero nella classifica di Forbes, ma quando hai pensato a questo progetto avresti mai ideato che potesse diventare così grande? Ma no, assolutamente no. Ripeto, io ho iniziato con un post su Instagram e quindi ho detto per gioco, mi divertivo, mi piaceva poi l'ho fatto molto per me stessa e per gli altri quindi anche il fatto per me, la prima volta che ho presentato il progetto in comune a Ferrara ho raccontato per la prima volta davanti ad un pubblico di più di una persona cosa ho vissuto quando avevo i disturbi del comportamento alimentare e per me è stata una liberazione ed un modo di dire ce l'ho fatta, no? E quindi adesso posso aiutare gli altri perché secondo me finché non ti salvi tu non riesci effettivamente a dare un aiuto concreto agli altri invece in quel momento, proprio capito, è il momento però non me lo aspettavo nel senso che dopo la presentazione dopo un mese che mettevamo anche post su Instagram ci sono arrivate 27 richieste ma io non avevo ancora la società aperta per fare delle sedute e quindi ho dovuto fare tutto velocemente aprire la società e mi sono ritrovata a un certo punto da un giorno all'altro a 22 anni ad avere una società e dire ok adesso l'ho fatto, speriamo che vada tutto bene Nel frattempo comunque anche studiando all'università svolgendo una vita da giovane quindi veramente complimenti in più tu prima hai detto che hai un team ovviamente una squadra che lavora insieme a te Sì Giusto, ok Da quante persone è composto questo team? È un team di Gen Z? È un team misto? Sono molto curiosa su questo Siamo un team completamente giovane nel senso che Tommaso Bordoni che è il nostro psicologo e a breve anche direttore sanitario perché quest'anno apriamo anche come centro medico su Ferrara ha 32 anni ed è diciamo il più adulto di tutti noi quindi siamo tutti sostanzialmente under 30 o appena sopra i 30 e il team è composto da Valentina che è grafica e adesso si occupa insieme a me della parte di comunicazione e dei social poi abbiamo Alberto che ci aiuta a tutta la parte di sviluppo software e sito web anche perché in futuro la nostra visione è quella di comunque lavorare anche molto in presenza ma quella di creare una piattaforma con intelligenza artificiale che faccia matching tra paziente e terapeuta quindi andiamo anche nella direzione tech cosa che ovviamente non mi compete quindi abbiamo Alberto che ci aiuta e il resto del team sono tutti psicologi, psichiatri e nutrizionisti ecco quindi il lavoro core diciamo lo facciamo io, Valentina e Alberto Quindi un team sicuramente tutto giovanile Senti Camilla il tuo progetto credo che sia l'unico in Italia o comunque è sicuramente stato il primo a occuparsi di questo compito di questo argomento la tua necessità di aprire dici Alice è stata come posso dire spinta non solo dalla tua esperienza personale ma anche dal fatto che guardandoti attorno ti rendevi conto che persone con disturbi alimentari non trovassero modo, coraggio o comunque soluzioni per curare questa malattia Sì sì mi sono proprio resa conto che a parte ovviamente i tempi lunghissimi che dovevano aspettare dai sei mesi ad un anno per accedere alle terapie vedevano magari lo psicologo due volte al mese comunque avevano proprio difficoltà a chiedere aiuto e a fidarsi che è una cosa assolutamente normale nel contesto ovviamente della malattia però ho proprio sentito questa necessità e più che altro di cambiare anche un po' passo sui metodi terapeutici perché noi ad esempio non escludiamo nessun paziente ci sono purtroppo delle realtà territoriali delle cliniche che a causa della mancanza di posti hanno dei criteri molto stringenti per ricoverare i pazienti ma i criteri sono sempre gli stessi cioè l'estremo sottopeso il criterio del vomito stato indotto e alcuni centri addirittura non seguono l'obesità e alcune persone sotto i 14 anni quando l'età di esordio è agli 8 quindi noi il nostro metodo si basa molto sulla prevenzione quindi non c'è bisogno che una persona si consideri grave che poi io dico non esiste mai una gravità in questi disturbi però si consideri grave per poter accedere alle cure cioè tutti hanno diritto di farlo se sentono che il loro rapporto con il cibo è conflittuale cioè ancora meglio se si rivolgono all'inizio perché poi si evita appunto la cronicizzazione della malattia certo sono guarda totalmente d'accordo perché purtroppo ho vissuto varie esperienze di amici conoscenti che hanno sofferto di di CA e ho proprio notato la difficoltà che c'è nel nel trovare delle cure nel trovare degli aiuti proprio perché come dici tu non esiste una gravità in realtà ma per tante cose viene fatto un criterio viene selezionato un criterio viene selezionato una scala di avanzamento della malattia e quindi se sei all'esordio risulta molto difficile trovare trovare una cura trovare un aiuto quindi credo che il tuo compito sia veramente straordinario grazie mille per quanto riguarda invece la nostra carissima Gen Z di cui ci occupiamo sempre in questo in questo podcast ti voglio chiedere secondo te qual è il il coinvolgimento della della Gen Z nel panorama dei disturbi alimentari credi che sia un qualcosa che che colpisca gran parte della Gen Z rispetto ad altre generazioni oppure anche altre generazioni hanno sofferto di disturbi alimentari come tanti giovani della Gen Z ma più in silenzio con meno rumore perché se ne poteva parlare meno sicuramente i disturbi alimentari ci sono da tantissimi tantissimi anni addirittura io ho parlato con un professore di filosofia che faceva delle ricerche sui disturbi alimentari nell'antica Roma casi di anoressia quindi sicuramente c'erano anche all'epoca dei nostri genitori dei nostri nonni ma penso anche che fosse molto di più un tabù purtroppo rispetto ad oggi quindi se avevi o mostravi problemi con il cibo ti dicevano e vabbè ma poi ti passa ci sono cose più importanti no ma non solo i disturbi alimentari penso che tutto il tema della salute mentale e in generale di disturbi psichiatrici fosse un argomento assolutamente tabù e da non trattare no è rimatto è fine oppure se lo facevi passare e penso anche che questo abbia contribuito al radicarsi della diet culture nel senso che io sento spessissimo ma più dalle persone magari anche un po' più anziane che la pizza si mangia solo al sabato che poi se mangi la pizza devi compensare che bisogna stare a dieta che la cioccolata fa male insomma secondo me parlando poco di disturbi alimentari si è anche parlato molto di sensibilizzazione e di educazione rispetto al tema dell'alimentazione e della salute mentale e quindi penso che oggi sicuramente la Gen Z sia molto più attenta a questi temi sia anche molto più attiva a divulgare e ha iniziato a dire anche dei no cioè quando magari i genitori ti dicono non è niente e invece sì ho qualcosa e quindi vado dal terapeuta perché ho il diritto di farlo e penso che questo sia molto importante ma che ci sia ancora tantissima strada da fare perché di disturbi alimentari se ne parla tanto ma è come se se ne parlasse con un velo di sì ok esistono sono gravi però tutto fumato no e invece no bisognerebbe proprio parlarne come sono in realtà c'è un disturbo che uccide 4.000 persone all'anno della seconda causa di morte giovanile secondo me non può più essere insomma lasciato non è sceso andare sono d'accordo sono d'accordo anche sul fatto che le nuove generazioni soprattutto l'agenzia ha una consapevolezza maggiore sui disturbi alimentari ma sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare oltretutto tu prima hai detto che vai nei licei a parlare con i ragazzi e le ragazze e hai notato l'interesse da parte dell'agenzia quanti di loro capiscono di aver bisogno di voi e quanti magari stanno affrontando un percorso di guarigione questo all'interno dei licei proprio sì sono i ragazzi che abbiamo incontrato noi sono stati tutti meravigliosi i professori erano preoccupati perché ci dicevano ah no ma voi non sapete con chi avete che fare sono delle scimi urlanti non vi lasceranno parlare e invece stavano zitti per tre ore di conferenza cioè zitti e poi nel senso noi interagiamo molto con gli studenti quindi ci piace molto che loro dicano cosa ne pensano anche se la pensano magari nel modo tra virgolette sbagliato e pensano che un disturbo alimentare insomma sia una cosa superficiale che non sia effettivamente un disturbo psichiatrico poi glielo si spiega ma sia anche importante che loro te lo dicano proprio per educarli e quindi in realtà li ho visti tutti sempre molto attenti sempre molto disponibili ed effettivamente dopo che noi spiegavamo esattamente che cosa succedeva una persona che soffriva di disturbi alimentari cambiavano proprio volto si vedeva proprio che si accendeva una scintilla e comprendevano di che entità fosse il problema e quindi noi ci siamo sempre trovati molto bene dopodiché abbiamo scelto un approccio diverso da quello della lezione diciamo frontale di letteratura scientifica perché secondo noi serve anche a poco per intercettare qualcuno che magari ha bisogno o qualcuno che viene a conoscenza per la prima volta dei disturbi del comportamento alimentare soprattutto un'altra cosa che non facciamo è elencare i metodi di compenso oppure elencare cose che possono insomma dare adito a fenomeni di emulazione o comunque triggerare qualcuno che magari nel pubblico ne soffre penso che molte volte quando si parla nelle scuole professionisti sicuramente molto competenti molto bravi non prendano in considerazione che stanno parlando una platea molto ampia che lì in mezzo ci sono persone insomma sensibili che potrebbero essere a rischio certo sicuramente una giovane che parla ai giovani attira di più l'attenzione fa più scalpore nei loro cuori io ti ringrazio tantissimo Camilla il tuo lavoro è meraviglioso fondamentale perché fare informazione divulgazione su questi temi è veramente qualcosa di meraviglioso e a proposito di meraviglia ti vorrei far fare un giochino che faccio sempre io chiedo sempre ai ragazzi che vengono a trovarmi di aiutarmi a smontare questo luogo comune tutti dicono della Gen Z che i ragazzi che ne fanno parte sono dei fanulloni che non hanno voglia di lavorare che proprio sono svogliati tu cosa ne pensi come rispondi a queste persone secondo me non è assolutamente vero io mai come oggi vedo dei giovani invece che hanno voglia di fare che hanno voglia di mettersi in gioco penso che siano molto impauriti da tutti quelli che in continuazione li relegano a fanulloni nulla facenti guardate state sempre sui social guardate non fate niente tutto il giorno no penso che il problema siano più gli altri perché secondo me i giovani hanno bisogno di essere spronati e hanno bisogno di essere accettati anche in quanto giovani chiaro che un giovane ha anche dei pensieri che sono diversi da una persona di 50 anni ma se no non saremmo giovani saremmo tutti dei 50 anni e quindi voglio dire bisogna secondo me spronare i giovani e non trattarli come degli incompetenti perché non lo siamo quindi io spesso vedo le facce di chi mi vede la prima volta e dice ah vabbè 24 anni non è ancora laureata poi mi sente parlare e dice non pensavo e io dice oh perché non pensavi no è che chi non è giovane voglio dire non è una persona pensante quindi a tutti i genzi che ascoltano io dico insomma di buttarsi di seguire i propri sogni perché ce la si fa non è vero che non facciamo niente io credo che Camilla abbia risposto in maniera eccelsa a tutti coloro che pensano che la genzi sia una generazione di Fannulloni e io ti ringrazio ancora tanto ringraziamo Camilla Mondini ringrazio tutti i nostri ascoltatori e vi mando un grande bacio un grande saluto da Genzi allo specchio e da Giulia Bello Dr. Podcast Grazie a te a tutti i nostri Grazie a tutti